Ciao, sono Alberto Prina, sono un fotografo professionista, realizzo reportage e progetti fotografici. Dalla prima edizione del Festival della fotografia etica di Lodi ne sono anche il coordinatore. Perché iscriversi a un corso di fotografia base? Perché la fotografia è il più potente strumento di comunicazione della nostra società e perché alla FP School puoi trovare un corso che unisce la tecnica alla comunicazione. Chiedersi prima il perché realizzo uno scatto e poi che cosa mi serve per realizzarlo. Qui sotto troverai tutte le indicazioni, il programma dettagliato e i contatti per venirci a trovare. Ti aspettiamo!